Ancora intilti il traffico nel centro storico di Massino Visconti a causa della chiusura della statale 33 del Sempione. Ieri tre tir nella mattinata si sono incastrati nel centro del paese. Non ne possiamo più, dice Antonio Iroldi, il sindaco, che dopo la chiusura della statale del Sempione aveva visto aumentare il traffico esponenzialmente, ma pensava che con il nuovo lockdown i problemi fossero risolti. Non aveva fatto i conti con i camion di tir che attraversano il Vergante. Si sfoga così. Escono dall'autostrada A26 a Meina e vogliono andare a Lesa a Meina o Stresa e fare consegne e, pensando di scendere verso Lesa, passando da Massino Visconti. Non sanno che la strada è stretta e si imbottigliano nel nostro paese in vie strettissime, a rischio di portarci via i balconi delle case. Tanto più che poi a Lesa non possono arrivare perché giungerebbero al ponte della ferrovia che è troppo basso. Non possono scenderne pure da Meina perché la strada, detta dei piantini, è pericolosa. Ho già scritto al prefetto di Novara e alla società Autostrade. Si devono dare indicazioni già all'uscita di Arona affinché questi bisonti della strada escano dall'autostrada al casello di Baveno e poi tornino indietro transitando dalla statale del Sempione. In paese ci sono i cartelli, ma i grossi camion li ignorano. Ieri è stato un caso limite, ma di episodi come questi ce ne sono già stati altri. Il nostro comune e tutto il vergante è in carenza anche di vigili urbani. E l'inverno si avvicina. Speriamo che la statale del Sempione riapra presto, almeno a senso unico alternato, e che le nevicate non arrivino precocemente. Se no, sarà un disastro. Ayroldi dice questo alla luce delle chiusure che ci sono state anche sull'autostrada durante l'estate, autostrade tra fuori e che hanno visto nei fine settimana tutto il traffico convogliato nel paese.